Tu ce l'hai un danno? No io no, tu ce l'hai vero Ma allora prima che si metta a piovere Facciamo una foto Oh no! È caduta in acqua! E ora? Qual è questa? Oddio c'è un video Che schifo! Cosa possiamo fare? Pubblichiamolo su tutti i social Deve arrivare al Parlamento Europeo Hai ragione Buongiorno, questo video inviato da due ragazze sta spolando sui social e mostra la situazione attuale dei mari Dobbiamo trovare delle soluzioni per un futuro migliore e un mare più pulito Siete d'accordo? Insieme? Sì! Hurra!